In questo congresso nazionale SIDEMAS che si svolge a Napoli, porta varie relazioni, particolari interessanti sono le relazioni sui laser, laser frazionali, ablativi, non ablativi, che hanno un efficace ruolo nella sintesi di collage dell'elastina e quindi nel rimodellamento delle pelle. Poi però parlerò anche degli effetti collaterali del laser perché bisogna sempre fare molta attenzione quando usiamo queste nuove tecnologie perché sono utilizzate da mani esperte e possono essere anche pericolose.